buongiorno a tutti e ben ritrovati a mc2 qui con noi oggi lorenzo ferrari ciao grazie per avermi invitato allora lorenzo raccontaci un po chi sei tu poche parole per descriverti allora cercherò di non sembrare un tuttologo io sono per racchiuderlo in due parole un digital marketer a 360 gradi questo che cosa significa che mi occupo di scrivere contenuti così come di gestire canali social così come di faccio tante cose sono un digital marketer e a breve esatto e a breve imprenditore e a breve imprenditore e tu infatti hai una tua pagina instagram ma in realtà nei due smartworks parliamo di smartworks come nasce quest'idea insomma chi ne fa parte che oggi la famiglia di smartworks allora smartworks non è una pagina è un progetto mi piace definirlo un progetto imprenditoriale perché non è ancora impresa ma insomma ci stiamo arrivando manca poco come è nato è nato il 26 marzo 2020 da un'esigenza cioè era appena scoppiata la pandemia le aziende non assumevano più nemmeno stagisti e io ero nel terzo anno di università avevo bisogno di fare esperienza poi insomma avevo voglia di applicare quello che studiavo quello che facevo e un giorno creato una pagina instagram che non è nata per caso cioè non è che mi sono svegliato detto creiamo una pagina instagram io e da tempo da mesi prima che avevo in mente di fare qualcosa ma non sapevo cosa perché studiando comunicazione di concreto cosa puoi fare quindi ero un po in difficoltà però già da un anno avevo iniziato a fare già da un anno avevo iniziato a fare personal branding su linkedin e quindi insomma forte di questa cosa ho iniziato a pubblicare contenuti è una certo detto va bene ok proviamo a farlo anche su instagram in un progetto che non porti il mio nome così è nato smartworks in realtà c'è una storia un po più articolata dietro ci sono stati mesi di lavoro però alla fine è nato e da quel momento ad oggi è cresciuto esponenzialmente oltre a ogni nostra aspettativa fino a quando qualche mese fa non siamo arrivati a chiederci ma vogliamo concretizzare questa cosa o abbiamo lavorato tutto questo tempo per niente ho voluto ovviamente concretizzare quindi abbiamo iniziato a fare il business plan ed eccoci qua infatti siete arrivati da poco a ben 50 mila se non oltre seguaci che effetto ti ha fatto ma non mi ha fatto effetto nel senso che dipende da come la prendi c'è chi si emoziona io onestamente no mi sento a un punto veramente piccolo del mio lungo percorso e 50.000 followers comunque sono followers è vero sono persone che scelgono autonomamente di seguirti però sono numeri quindi quanto valgono nel concreto in realtà la vera soddisfazione sta nell'aver costruito un progetto in un panorama quello di instagram perché è nato lì inizialmente come pagina saturo all'interno di un settore che è molto saturo perché noi non abbiamo iniziato con qualcosa che fosse diverso cioè noi raccontiamo il marketing ora che non siamo ancora un'azienda è il nostro chiamiamolo core business nella nostra mission raccontarlo in modo smart ma non siamo gli unici a farlo e quando abbiamo iniziato non eravamo gli unici quindi è questa la soddisfazione poi la soddisfazione sarà la prima vera sarà creare un'azienda quando proprio avremo firmato il tutto e poi avremo insomma chi perché parlo al plurale io ho un difetto sia che quando lavoro con persone parlo al plurale in realtà sono decisioni mie però sì la decisione di creare smart talks è nata con un altro ragazzo che oltretutto un mio amico di università scusa delle scuole superiori completamente opposto a me lui non si occupa di comunicazione ma di informatica abbiamo deciso di metterci insieme in questo progetto e così è nato il progetto smart talks ora questo ragazzo non ne fa più parte perché non è il suo campo non lo sente solo informatico si occupa di sicurezza informatica quindi puoi ben capire che però comunque dentro smart talks adesso siamo più di 30 persone divise in diverse aree proprio come se fossimo un'azienda chiaro che quando inizieremo 30 sono un po tantine per iniziare ad oggi stiamo pensando quando saremo un'azienda di essere ovviamente meno di quelle che siamo al momento però perché parlo al plurale ora a parte perché comunque io includo sempre le persone come ho detto con cui lavoro ma anche perché non sarò l'unico a creare questa azienda con me ci sono due soci e due ragazze quindi abbiamo già sporato il gender balance e anche in realtà all'interno del team in cui siamo adesso è un team formato per il 90 per cento veramente da donne non per scelta ideologica non per chissà quali motivi perché sono ci sono capitate candidature migliori da parte di donne molto meritocraticamente parlando e quindi parlo al plurale per questo perché non sono l'unico dietro a questo progetto le decisioni le prendo io con tutta onestà ma chiaramente confrontandomi con un team che sarà più piccolo tra qualche mese ma comunque sarà un team quindi non sarò solo tra l'altro poco fa hai raccontato che su LinkedIn nasci per fare il personal branding quindi ci puoi spiegare un po' la differenza tra i tuoi contenuti LinkedIn e i tuoi contenuti Instagram allora partiamo da una premessa su LinkedIn sono una persona su Instagram sono un'altra in realtà sono la stessa persona ma ho diverse sfaccettature a livello strategico non è la cosa migliore cioè avendo un'immagine un personal brand un'immagine riconosciuta professionalmente una credibilità su una piattaforma come LinkedIn una persona potrebbe aspettarsi lo stesso anche su Instagram in effetti è la scelta strategicamente più efficace perché perfetto non metterei tutti d'accordo invece a volte è capitato che delle persone che mi seguivano su LinkedIn mi vedessero su Instagram e dicessero addirittura eh ma io credevo fossi un professionista sti cazzi sono un professionista posso dire delle cazzate se mi fa cioè io considero e non lo consiglio perché bisogna prendersi dei rischi quindi bisogna essere pronti a questo io considero Instagram come il mio spazio personale cioè facendo contenuti su Smart Talks su altri progetti comunque lavorando per clienti facendoli per me io non riesco ci ho provato a fare contenuti professionali in cui parlo di ciò di cui mi occupo sul mio proprio Instagram ma non ce l'ho fatta quindi è proprio la mia bolla dove dico se voglio cazzate dove faccio le impressioni dove parlo mettendoci la faccia e mi piace ma non so ad esempio dal mio punto di vista questo è un punto a tuo favore perché comunque crei legame con il tuo favore sì è un punto a mio favore è un punto a mio favore ma ripeto bisogna assumersi dei rischi perché delle persone magari che si aspettano perché vedono la tua immagine su LinkedIn nel mio caso che è tutta professionale pulita eccetera magari arrivano su Instagram e ti beccano e proprio vanno a vedere il tuo profilo nel giorno in cui hai detto cagarezza nel giorno in cui ho pubblicato la foto del calendario dell'avvento di Durex in cui c'era scritto non dico cosa diverse cose e quindi rimane un po' così e può mandarti a cagare giustamente possiamo dire però guarda questo sei tu è anche vero che tutti siamo così cioè non è che io vabbè qui non voglio lanciare frecciatine però le persone che sono incravattate tra virgolette incravattate che diciamo hanno un'immagine professionale pulita su tutti i loro canali social da una scelta strategicamente funzionale secondo me ma non è la realtà cioè io sono come chiunque anche questo se voglio dire delle cazzate lo faccio è bene scegliere dove non è il caso su LinkedIn su LinkedIn non è il caso ma su Instagram sì anche perché su LinkedIn sei l'under25 più seguito d'Italia al momento al momento quindi abbiamo qui l'under25 più seguito e qual è il segreto del tuo successo? cosa ti ha portato a essere così tanto seguito? la costanza la qualità il valore il valore aggiunto che cerco sempre di mettere nei miei contenuti la passione perché quella ha giocato un ruolo importante si pensa sempre che una volta ho fatto una riflessione ho detto se metti passione in ciò che fai raggiungerai gli obiettivi che ti prefissi e una persona mi ha mandato a cagare dicendomi che cazzata non basta la passione no, è vero, non basta nel mio caso però si percepisce che io sono appassionato cioè quando faccio i contenuti e si leggono c'è entusiasmo c'è passione questo crea legame ma soprattutto anche quando li racconti anche quando li racconti ad esempio come quando hai raccontato la dell'Aikos fondamentalmente sì, sì, è proprio io sono appassionato e questa cosa se tu sei appassionato veramente di qualcosa quando ne parli anche in modo scritto si percepisce poi puoi scriverlo bene puoi scriverlo male diciamo che questo è uno dei fattori poi c'è l'entusiasmo la costanza come ho detto la qualità che ricerco sempre nei contenuti che creo e tutti questi fattori hanno contribuito a portarmi ma stiamo parlando di un percorso di due anni a essere seguito e più che seguito a ritagliarmi uno spazio dentro la piattaforma di LinkedIn e soprattutto a ottenere autorevolezza e credibilità in un settore come il mio la cosa interessante non lo dico per tirarmela è che io ho iniziato ma ancora adesso lo sono quando ero secondo anno di università allora dovevo iniziare il terzo comunicazione relazioni pubbliche comunicazione di impresa e quando ho iniziato io non ne sapevo niente di quello di cui parlavo cioè scrivevo le cose che stavano sui miei libri di studio quindi è curioso il fatto che attraverso questa passione e mettendoci sempre impegno e costanza sono riuscito a ottenere riconoscibilità e fiducia anche da parte di persone professori ad esempio universitari manager persone che ne sanno più di me e che sono a livello di scala professionale più in alto che quindi hanno più esperienza e questo infatti ti ha portato a parlare al TED a TEDx raccontaci un po' l'esperienza del TED allora l'esperienza del TED è incredibile cioè andare a un TEDx è qualcosa di assurdo è una scarica di adrenalina non è un palco normale io avevo già avuto esperienza su due palchettini in cui avevo parlato più internamente all'interno di aziende però il TEDx è un palco incredibile ti dà una scarica di adrenalina che nessun altro palco secondo me a parte Sanremo nessun altro palco ti dà e il punto è che tu quando sei su questo palco ti vedi inquadrato da diverse videocamere e pensi ma questo andrà sul canale globale di TED e mi può segnare a livello di carriera sì quanti TED fai nella vita questi sono i pensieri uno questi sono i pensieri che ti girano in testa quando lo fai e infatti non è andato benissimo almeno no non è andato per niente io non sono soddisfatto perché avevo preparato un discorso in mesi avevo fatto molta fatica a scrivere questo discorso poi ho passato un mese senza fare nulla e l'ho scritto tutto completamente di nuovo perché quello che avevo scritto non mi piaceva quindi l'ho riscritto e l'ho modificato fino alla sera prima di salire sul palco in cui ho cambiato una frase quindi già questo ti fa capire che non ero molto convinto cioè allora vedendo il video comunque io ho guardato il video del tuo TED e a parte l'ansia da prestazione ma non sì ma quest'ansia da prestazione non è derivata dal fatto che fosse il palco in sé ma dal fatto che io in realtà non ero pienamente non sentivo pienamente quello che stavo raccontando perché l'avevo provato e fino a veramente un minuto prima di salire sul palco era impeccabile vedi qua l'avamo mi sono pure misolato la pressione cazzo mi sono misolato la pressione prima di salire sul palco anche il battito era tutto perfetto quindi sono stato tranquillo e un po' sono crollato questo perché non ero confident con quello che stavo dicendo ma non perché non lo... cioè erano cose che pensavo ma non lo so c'era qualcosa che non permetteva di identificare amici ok dunque non è finato adesso abbiamo parlato di te come professionista Instagram e LinkedIn ma Lorenzo Ferrari quando chiude il computer chi è? è una persona che ama la socialità io amo le persone amo stare tra le persone quindi cerco di viaggiare tanto cammino molto perché mi rilassa a volte anche da spesso anche da solo esco proprio da solo a camminare a caso faccio sport e creo creo in senso molto metaforico cerco di scrivere il mio libro che uscirà nel 2023 un libro sul? sul personal branding ok che è poi quello di cui mi occupo e scrivo pensieri di qualsiasi tipo che poi possono diventare contenuti che possono rimanere lì però in genere la cosa che più faccio è scrivere scrivere ok quindi Lorenzo fai personal branding ma come ti venderesti alla persona che ti piace? dovresti essere bravo devi essere bravo ciao mi chiamo Lorenzo mi reputo una persona interessante ma se mi darai la possibilità di mostrartelo rimarrai piacevolmente sorpresa cavolo eh sì e come fa una non cascarsi subito quando insomma un invito non mi presento così normalmente ma secondo me un'idea potrebbe andare così ti lascia anche no? ti lancio l'esca sì e lascia la curiosità a proposito di curiosità da bambino com'eri? da bambino ero una persona vivacissima ero vivace ero erruento distruttore distruggevo tutto avevo i modellini delle macchinine le distruggevo facevo i castelli di sabbia poi li prendevo sassate non con le palle di sabbia proprio cercavo i sassi e li rinvio perché ci mettevo i soldatini quindi distruggevo tutto e in realtà questa distruttività l'ho poi trasformata in costruttività nel tempo ma fino agli anni delle scuole medie era distruzione perché avevo questo fermento che non riuscivo a incanalare poi ho capito dove nel marketing dove incanalarlo e quindi ecco un fluito lì ma prima era qualcosa che bolliva ero vivace ero rompicoglioni prendevo un sacco di note a scuola sono stato pure sospeso facevo casino disturbavo insomma persone poco raccomandabili un ragazzo modello e senti nel tuo percorso hai trovato magari chissà se ti è capitato qualcuno che ti mettessi bastoni tra le vuote come hai reagito? ma tantissima gente io ho anche sofferto di bullismo cyberbullismo a scuola cyberbullismo più avanti quando ho iniziato a fare video su facebook perché non ho certo avevo voglia di fare video su facebook ho iniziato a farlo e ai tempi mi sembra veramente di parlare di oggi siamo tutti così sensibili a questi temi ma ai tempi sentemi l'orecchino sul sinistro sul destro non mi ricordo eri gay forse eri gay infatti io me lo sono fatto solo tre anni fa questo di qua non perché tre anni fa ho smesso di non ero omofoba ai tempi ma perché prima quando l'ho fatto ai tempi delle medie questo questo sul destro eri gay quando l'ho fatto ai tempi delle medie cioè se te lo mettevi di qua eri gay non si scappava oggi sembra strano parlarne però era veramente così ai tempi era veramente così quindi insomma anche fare video su facebook veniva visto in modo strano perché facevi qualcosa di diverso e quindi cyberbullismo bullismo così gratuitamente perché il bullismo è sempre quasi sempre è sempre gratuito quindi le persone che mi hanno messo i bastoni tra le ruote ce ne sono state veramente tantissime anche in ambito professionale come ho reagito all'inizio reagivo male nei tempi in cui soffrivo di bullismo ad esempio poi un giorno ed è stato veramente così mi ricordo proprio un giorno ho fatto un mega pianto perché non capivo perché ci fosse questa cattiveria gratuita non lo concepivo e proprio ricordo perfettamente poi non so le dinamiche esatte ma ricordo perfettamente che da quel giorno ho proprio impostato una mentalità completamente differente e ho cominciato a fregarmene che è ciò che faccio tutto oggi infatti se tu mi fai una critica e sei una persona che mi fa una critica costruttiva tipo faccio un esempio una persona che mi seguiva su LinkedIn e mi seguiva su Instagram un giorno mi ha detto ah perché le avevo detto ho fatto delle storie e poi dicevo cazzate solite cose mi ha scritto ah io pensavo fossi un professionista però se dici questo fai trasparire questo messaggio qua eccetera eccetera e io ah cazzo e mi ha urtato parecchio e quindi c'è una differenza tra la critica costruttiva e la persona che la fa se tu mi fai una critica che è sterile e se non mi dai un punto di vista su cui poter ragionare non me ne frega niente quindi ignoro tanto persone che criticano si ne è pieno il mondo e senti ormai a 22 anni comunque stai aprendo anche la tua azienda diventerai un breve imprenditore come ti vedi insomma anche a 44 anni ad esempio spero ricco no a 44 anni nella mia visione ha pagato proprio onestamente parlando ha pagato e felice che tutti questi sacrifici fatti fino ad ora che mi hanno portato a sacrificare tante cose della mia quotidianità della mia età che altre persone possono godersi siano ripagati ma ad esempio cosa sacrifici ma ad esempio la vita sociale io ho sacrificato tanto di vita sociale sono uscito meno magari a volte mi chiamavano i miei amici per uscire dovevo lavorare o dovevo fare cose e non capivano cosa dovessi fare perché magari era creare dei contenuti per i miei per le smart talks cioè è questo quello che poi ti crea un po' di frustrazione che le altre persone che hai vicino non capiscano veramente però ho dovuto sacrificare tanto rapporti personali persone tossiche persone che mi rallentavano amicizie che in realtà erano amicizie nel momento in cui io vivevo lo stesso stile di vita la stessa routine la stessa routine e per chiudere tutto questo appunto vita sociale uscite serate discoteca divertimento sport tutte queste cose qua in virtù di di creare qualcosa di tuo sì tutto sta allora Lorenzo ti farei l'ultima domanda ed è quella come vorresti essere ricordato tu un giorno come ti piacerebbe che le persone parlassero di te ti ricordassero mi piacerebbe essere ricordato per il segno che ho lasciato che in realtà non è una risposta penso ho semplicemente rigirato la domanda mi piacerebbe essere ricordato per qualcosa di valore cioè mi piacerebbe lasciare un'impronta positiva noi lo stiamo già facendo come Smart Talks anche io cioè creare contenuti di valore è lasciare un'impronta comunque positiva per qualcuno quindi vorrei essere ricordato per questo non so ancora per cosa ovviamente non ho idea di come sarà il mio futuro magari muoio domani ma almeno da un tempo di finire il libro ma mi piacerebbe essere ricordato per un contributo che ho lasciato alla società in qualche modo che non per forza vuol dire creare una onlus per aiutare i bambini in Africa per dire ma almeno lasciare un segno positivo a qualcuno a qualche persona qualcosa di utile insomma che faccia dire ok quello che ha detto che ha scritto che ha fatto Lorenzo mi è servito ok quello è potresti scrivere nuovi libri di testo magari da utilizzare io ho già il cantiere allora io ringrazierei Lorenzo Ferrari per essere stato qui con noi oggi vi inviterei assolutamente a seguire le sue pagine che sono Smart Talks Clever ADV altra futura azienda me lui assolutamente perché i suoi contenuti meritano su Instagram LinkedIn dove vi pare va bene e allora grazie per essere stato qui con noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che in caffè Veritas veritas Grazie